Benvenuto nel servizio Tandem BancoPosta MobilePos. Tandem BancoPosta MobilePos è il nuovo sistema di pagamento che puoi portare sempre con te. Sei pronto per provarlo? No? Come no? Usare il MobilePos è semplicissimo. Per prima cosa accedi all'app Tandem BancoPosta, poi attiva il Bluetooth. Infine, configura l'app. Ci vuole un attimo. Ora che l'app è configurata, inserisci il codice del terminale e la password che hai ricevuto via mail. Ora l'associazione tra smartphone e MobilePos è completa. Il tuo MobilePos adesso è attivo. Puoi usarlo dove vuoi e quando vuoi. Pronto per la prima transazione? Digita l'importo del pagamento sulla tastiera dell'app e fai autorizzare la transazione al tuo cliente. Può farlo in tre modi. Con il sistema contactless, avvicinando la carta al MobilePos. Con il PIN, digitando il codice sulla tastiera che compare sul lettore MobilePos. Con la firma, direttamente sul display del tuo smartphone, con il touch. Dopo ogni transazione puoi vedere sul display i dettagli del pagamento. Lo scontrino è digitale, ecologico e facile da archiviare. Invia al cliente la sua copia con una semplice mail. Una schermata finale ti conferma la corretta archiviazione dello scontrino. Nel caso in cui l'archiviazione sia momentaneamente non disponibile, puoi visualizzare e salvare la ricevuta direttamente sul tuo smartphone. Se vuoi annullare l'ultima operazione, accedi alla sezione Storno dal menu laterale. Quando sei nella schermata con i dettagli della transazione, premi il tasto verde sul MobilePos. Fatto! Pagamento cancellato. Anche in questo caso la ricevuta è digitale. Puoi archiviarla e inviarla al cliente. Il sistema di archiviazione digitale è fantastico. Quando ti viene un dubbio su una transazione passata, non devi più cercarla tra migliaia di scontrini. Basta accedere all'elenco scontrini per ritrovare in ogni momento le informazioni sulle transazioni effettuate. Il servizio Tandem BancoPosta MobilePos è la soluzione perfetta per tutti i professionisti che hanno bisogno di un sistema di pagamento elettronico da portare sempre con sé. Perché è piccolo, sicuro e semplice. Grazie per aver scelto il servizio Tandem BancoPosta MobilePos. La scelta più innovativa nel settore dei pagamenti. scarica gratuitamente l'app Tandem BancoPosta da Google Play o App Store.